spazza spazza via che abbiamo vinto finisce qua 2-0 e prima vittoria in Europa subito dopo due giorni campionato contro Peck Zwoll attenzione perché la classifica attualmente è questa qua siamo al secondo posto a meno 3 punti dal Feyenoord non possiamo permetterci di sbagliare dobbiamo vincerla per forza è vero che il Feyenoord ha una partita in più giocata quindi in caso di vittoria possiamo pareggiarne i punti e per differenza rete possiamo anche superarli in classifica attenzione perché possiamo arrivare al primo posto vincendo questa partita comincia questa partita molto importante per la nostra classifica vediamo se riusciamo a fare qualche azione fatta bene in mezzo a due non postevo mai passare attenzione perché i contropiedi a me non mi piacciono non mi piacciono per niente i contropiedi attenzione siamo qui possiamo farlo possiamo farlo e la palla non mi arriva attenzione devo saltarli io per forza mi ruba il pallone il mio compagno stesso non ci posso credere ci provo in qualche modo un tiro insidioso ci provo di nuovo e vabbè spallato posso saltarlo ci riesco anche a saltarlo attenzione vai tu perché io non posso fare niente attenzione ci prova niente da fare niente da fare palla ancora viva e invece la sbaglia la sbaglia la sbaglia cazzo attenzione agli avversari esce il portico dobbiamo recuperare tutto proviamoci subito almeno dai proviamoci subito almeno possiamo vincerla la partita invece così non vinciamo un cazzo ma che cazzo mi passi la palla che era un fuorigioco a parte che a chi cazzo la volevi passare lì che non c'era nessuno vediamo se riesco a saltarlo vediamo se ci riesco non ci riesco a fare un cazzo più la rimonta è impossibile però con questi buchi cazzo la vanno a chiudere loro la partita il portiere la parata in qualche modo non ho visto nemmeno tanto bene proviamoci a fare l'ultima azione del primo tempo proviamoci non buttiamo la cazzo tutto da fare nel secondo tempo non dobbiamo mollare e dobbiamo farcela perché questo è la nostra occasione per andare in testa subito attacchiamo ma se non mi vedono loro non mi vedono sì è la rete subito 1 a 1 ce lo siamo presi subito adesso abbiamo tutto il tempo per poterla vincere adesso andiamo alla vincere dai andiamo alla vincere andiamo alla vincere ci provo no incredibile 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 è successo di tutto auto assist incredibile la difesa gli errori difensivi incidono tantissimo sulle partite recuperiamo il pallone abbiamo preso coraggio adesso dai allora è meglio che non parlo è meglio che non parlo perché vedendo queste cose qua veramente mi passa la voglia pure di giocare ci meritiamo questo ci meritiamo questo questo è quello che ci meritiamo porca puttana tutto devi fare era tutto perfetto cazzo era tutto perfetto vediamo se riusciamo a fare qualcosa vediamo se riusciamo almeno ad accentrarci a passare la palla a qualcuno invece no però è calcio d'angolo tira porca puttana recuperiamo sta pallone per favore invece di pareggiare l'andiamo proprio a perdere adesso la partita cioè vabbè ma cosa fanno cioè loro avanti che corrono per andare a fare gol e questi che fa passa indietro guarda gli passa pure la voglia non gioco nemmeno bene non gioco è imparazzante è imparazzante tutto ciò è imparazzante cazzo faccio io il difensore porca puttana lo faccio io il difensore cazzo la partita sta per finire manca pochissimo errore imparazzante è imparazzante stiamo pareggiando la partita così per questo errore del cazzo io questo non accetto per favore per favore ce l'ho fatta a passare della gol gol tutto merito mio il merito mio lo prendo io perché questa squadra senza di me sarebbe persa lo ribadisco perché quello che hanno fatto prima è inaccettabile come stavamo rischiando di pareggiare io adesso se prendo il pallone non lo lascio più no 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 attenzione attenzione perché la difesa qua fa schifo almeno l'hanno recuperata la palla cazzo è imparazzante tutto questo guarda che difesa di merda guarda spazzala te la tieni ancora lì cazzo lo riesco a saltare in tutti i modi possibili ci riesco in tutti i modi possibili fuori gioco di sto cazzo pure ovviamente loro la spazzano per andare a fare gol adesso siamo ancora tutti qua recupero un pallone incredibile a non tornare indietro che se ti prendono la palla siamo fottuti siamo dai cazzo porca troia dai che hai vinto la partita sì l'abbiamo vinto non so nemmeno io come con tantissimo fatica questa è l'attuale classifica pari punti con il Feyenoord in prima posizione per differenza reti contro il PSV attenzione attenzione perché non è una partita facile siamo anche in trasferta comincia questa partita che noi dovremmo vincere con tutte le nostre forze ci prova dalla distanza incredibile parato finalmente riusciamo a saltare il centro campo e a portarsi in attacco non lo so io ci devo provare per forza parata almeno ci provo almeno ci provo e vediamo di fare qualcosa si può fare qualcosa me la para ancora ci posso provare di testa non ci arrivo la palla però ancora viva per noi ci prova anche lui incredibile la difesa spazza ancora la palla è nostra però non riesco a saltarlo purtroppo mi ha fermato spazzate via questa palla per favore eccoci qua eccoci qua lo salto lo salto questa volta l'ho saltato benissimo benissimo non posso nemmeno tirare da questa posizione porca troia però ancora nostra ci posso riprovare questa volta non ci arrivo ci provo non so più come provarci non so più cosa fare attenzione nooo me l'ho parata ancora vediamo se ci posso provare ancora me la para niente da fare ci prova ancora ribattuto vaffanculo ci prova ancora parata di nuovo è assurdo tutto ciò niente da fare finisce questo primo tempo 0 a 0 ma il portiere mi ha preso veramente tutto mi ha preso di tutto questo portiere qua vediamo se riesco a saltarli difficile quasi impossibile direi ci provo perca puttana vediamo se riusciamo a fare qualcosa attenzione perché mi metto in mezzo pure io se questo è un cross al centro io sono veramente dio però vabbè attenzione attenzione come cazzo si chiamano questi qua il psv porca puttana però porca troia vediamo perché posso fare qualcosa se lo riesco a saltare posso fare qualcosa attenzione ci gioco un po' ci gioco un po' gli faccio vedere cosa è il calcio per finta però attenzione il psv attenzione la metto in mezzo guarda che ci sono io lì ci sono cazzo porca puttana veramente va non lo so non lo so che cazzo è questo portiere non lo so porca puttana eh madonna che partita stiamo pareggiando madonna tira palo ma perché fai queste cose qua perché perché che io ero libero al centro solo perché niente da fare niente da fare ultimazione loro finisce questa partita 0-0 ma qua hanno avuto dio in porta hanno avuto dio in porta a